Com'è stato giocare contro un ragazzino come Rodrigo Palassio? Non era la prima volta che ci giocavo, è un giocatore fortissimo, ha fatto grandi cose, le sta continuando a fare, è un grande attaccante, molto difficile da marcare, però è stato veramente bello, ci siamo anche parlati ogni tanto durante la partita, perché da parte mia c'è tanto rispetto, è un grande giocatore, è sempre bello giocare contro questi grandi campioni. Grazie.